Una visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria per ammirare i bronzi ha aperto il tour di tre giorni del Principe Alberto di Monaco in Calabria. Un evento atteso da tempo che coinvolgerà anche Gerace, Molocchio e Cittanova, tutti i territori degli antichi feudi della casata monegasca con i quali il Principe vorrebbe attivare delle collaborazioni. Nutrita l'accoglienza con i rappresentanti delle istituzioni locali è anche il direttore della sede RAI calabrese Massimo Fedele. Il Principe Alberto ha ricevuto poi in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Mediterranea la laurea ad onore in Scienze Forestali ed Ambientali per il suo impegno nella salvaguardia della natura e dell'ambiente, in particolare per il suo sostegno alle attività di ricerca sugli ecosistemi forestali e difesa della biodiversità. È una giornata molto importante, per noi celebriamo l'inaugurazione del nostro anno accademico coniugandola con una importante cerimonia, quella del conferimento della laurea onore in causa al Principe Alberto II di Monaco per i suoi indiscutibili meriti legati all'azione che da anni svolge a tutela e a difesa del patrimonio forestale mondiale e dell'ambiente in generale. Sono molteplici le attività didattiche e di ricerca che vengono svolte nell'ambito proprio di questa grande tematica ambientale con i nostri dipartimenti di agraria, di ingegneria, di architettura. Testimoniamo un merito al Principe Alberto II ma testimoniamo anche il nostro impegno didattico e scientifico sui temi dell'ambiente, della difesa del bosco, della foresta e di tutto quello che ci sta attorno.